Sarà disponibile la carta dedicata a te. Noi ci siamo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio per dare una mano. La Presidente Meloni si accorta il caro vita e come interviene questo governo che vive in un mondo dorato? Offrendo 380 euro, una volta soltanto, pensate, 380 euro, fai due volte la spesa e così affrotti il caro vita, il caro affitto, il caro mutui. E attenzione, non per tutte le famiglie ovviamente, ma soltanto le famiglie che hanno nuclei di 3 persone. Siete una coppia di giovani che non riescono a pagare l'affitto? Una coppia di anziani che non arrivate a fine mese? Per voi non c'è assolutamente nulla. Un genitore con solo figlio, niente di niente. Hanno fatto cassa sulla pelle delle persone indigenti, tagliando il reddito di cittadinanza. Mezzo milione di nuclei familiari rimangono senza nulla dall'oggi al domani. Però attenzione, il centro-destra ha disposto il ritorno ai massimi vitalizi. E quindi gli ex parlamentari, ex senatori particolari potranno beneficiare di un trattamento per quanto riguarda i vitalizi massimo. Siamo ritornati al passato. Quindi attenzione, questo governo è molto singolare. Dice no al salario minimo, sì ai massimi vitalizi. È un mondo capovolto. Presidente Meloni, vorremmo capire qual è la tua visione del Paese. Quindi salario minimo o no, massimi vitalizi sì. Non vi daremo tregua fino a quando non ristabiliremo il taglio dei vitalizi e non approveremo il salario minimo legale.